In questi giorni, soprattutto il tramonto, le vedete sui cavoli, girano delle farfalle bianche. Le farfalle bianche sono cavolaia, quindi fare già da subito un trattamento. Questo diventa fondamentale proprio per andare a cercare di limitare il più possibile sin da subito la cavolaia. La cavolaia non si ha solo in autunno, ma si ha anche a inizio settembre. Molti pensano che sia autunnale perché trapiantano gli ortaggi invernali a metà settembre, quindi ce l'hanno circa dopo un 20 giorni dal trapianto. Occhio, credenza sbagliata, andare subito a fare un trattamento. Con questo caldo non è neanche così stupido pensare di andare a fare un trattamento appunto per la cavolaia aggiungendo anche del concime liquido fogliare.